Attenzione prego, i passeggeri in partenza per Cluj-Napoca con il volo Wizz Air che hanno effettuato il check-in sono pregati di portarsi ai controlli di sicurezza. Ciao! Chi è questa principessa? Sei tu in una festa! Eri ubriaco? Ciao Florina! Ciao, perché sei qui? Voglio parlarti, per favore. Se vivi in un paese dove non puoi dire quello che pensi, l'unica cosa da fare è andartene. Ma io ho iniziato da... Sto, mamma, stiù! Buonasera, Vick! E lui non voleva finire come suo padre. Vorresti dirmi che non dovresti letto con me? Ti ho detto di lasciarmi. Non voleva niente. Non voleva portarti all'ungetto. No, Matteo... No! Quando il destino mischia le carte, non sei più tu a condurre il gioco. Lo so, l'avete presa come babysitter per chicchi. Ma... ma non è così. Il loro destino era lì, sotto lo stesso cielo. No! No! E io eventuali solo guzzati. Vick you! Tu? Ma... ma... maINE! Nu ! Ma... ma... maineгolo? U loste... Ma... ma mine. Ma... 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 ma것ofo? Cass Wu cash... Ma... ma due... ma... ma? ma... maongole... Ma uno li... ma... ma... maare... ma... 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 ma maagram... ma... ma è... ma... ma... ma перемilio... ma... 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 maل... ma... ma člo... ma... mayeah... ma